Velocità troppo elevata a Villa Fastigi. Un problema, quello della sicurezza stradale che è stato oggetto martedì sera di un'assemblea di quartiere alla presenza dell'assessore Belloni e dei tecnici comunali. Focus sull'intersezione delicata fra via Fastigi e strada in sala dove il comune ha messo sul piatto un'ipotesi di allargamento della carreggiata per migliorare visibilità oppure un cambio di senso di marcia. Problemi di viabilità che per il quartiere si aggiungono a diverse altre situazioni trascurate. Queste due ipotesi che il comune ci ha portato, ipotesi A e ipotesi B verranno vagliate nel consiglio di quartiere della prossima settimana sperando di fare contenti sia i residenti ma soprattutto dare veramente un senso di sicurezza. Anche se come hai detto nella premessa le richieste da parte del consiglio di quartiere fatte ricordo due anni fa quando il sindaco a metà mandato è venuto qua a chiederci cosa avevamo bisogno per il quartiere erano ben altre quindi qui parliamo di un attraversamento della via principale quindi di adottare dei sistemi per rallentare la velocità poi anche soprattutto diciamo il discorso delle rotatorie siamo qui davanti a una che è lasciata l'incurra più totale da diversi anni senza più il discorso dell'acqua che diciamo che scorre ma soprattutto anche i monumenti la parte diciamo in pietra è lasciata completamente abbandonata e le altre due rotatorie che sono quella davanti al palosnupi e quella che procede che conduce alla zona industriale rotatori che potrebbero essere visto che sono anche l'accesso alla città da urbino potrebbero essere sfruttate ben diversamente. Parlando di sicurezza noi abbiamo proposto tutte possibili soluzioni immaginabili quindi tutte queste cose sono state accantonate. Si è aggiunto recentemente anche e soprattutto per la sicurezza il discorso che il quartiere ha voluto fortemente con un'altra assemblea che si è svolta durante il corso dell'anno dell'attraversamento di Villa Fastigi nella zona della rotatoria del palosnupi perché lì verrà un centro sportivo molto grande quello della vispesaro con annessi paddle campi da calcetto campo da da calciotto il campo grande diciamo che sfrutterà la vispesaro eccetera eccetera che dovrà servire anche gli settori giovanili della vispesaro con attraversamento di una rotatoria delicatissima e pericolosissima. Avevamo chiesto il sottopasso questo sottopasso è stato fatto ci dovrebbero essere progetti che io sappia però non è stato finanziato. Siamo su tutte le pagine giornali questi giorni siamo usciti come centrodestra con tutti con questo problema che c'è stato che il comune sembra che non abbia partecipato a un bando che poteva servire per diciamo raccogliere 300 mila euro a questo scopo non ha partecipato destinando le somme e preferendo partecipare alla realizzazione della piazza del nuovo piazzale Marconi davanti al nuovo Palasport Auditorio.